Non vogliono abbandonare la propria città, non vogliono andare via da Gela così come hanno fatto in tanti negli ultimi tempi a seguito della chiusura dello stabilimento. Loro vogliono rimanere nel luogo in cui hanno vissuto e vivono. Sono le mogli, i figli degli operai dell'indotto della raffineria, anzi per essere chiari, degli ex operai di un indotto che non esiste più. Hanno scritto una lettera aperta al sindaco Domenico Messinese, nessun attacco ma solo un'immediata presa di coscienza di quello che sta accadendo. Ormai il Natale è alle porte e per noi sarà un Natale amaro, duro, difficile a causa della situazione che stiamo vivendo, senza lavoro, senza futuro, scrivono. E non siamo soli, sono coinvolte in tale tragedia anche altre famiglie gelesi, altri settori purtroppo. Non è facile per nessuno vivere questo dramma. Rivolgendosi al primo cittadino chiedono di mettersi una mano sul cuore e di leggere ciò che c'è nel nostro cuore, il cuore degli onesti cittadini gelesi, le persone che non fanno notizia, che differenziano i rifiuti correttamente, quelli che pagano le tasse, quelli che amano la propria città, quelli che guai a sentir parlare male di Gela, quelli che hanno perso o stanno perdendo i propri cari a causa del cancro e come se non bastasse hanno perso il lavoro. Chi ci riderà la nostra dignità? Cosa metteremo in tavola questo Natale? Da mogli, da compagne, non è facile stare accanto a delle persone che non hanno il lavoro, disperate, che hanno poca fiducia nella politica, nelle istituzioni che vivono in primis questo dramma. È un'esperienza bruttissima, un trauma psicologico ed economico che impatta sulla vita di coppia e familiare. Essere di sostegno al marito e ai figli non è per niente facile in un contesto del genere. I problemi che ruotano attorno a questa realtà sono complessi e complicati da spiegare. Ad oggi non esiste nulla di concreto, di risolutivo per gli opera dell'indotto e della nostra città, mentre di concreto esiste il disagio, la sofferenza, le difficoltà economiche, mutui da pagare, bollette, figli da crescere, da mandare a scuola con dignità e bisogna pur mangiare. Noi non siamo invisibili. Non vogliamo rinunciare allo splendore della nostra spiagge, si legge ancora nella lettera, e al clima stupendo che tutti ci invidiano. Non vogliamo sussistenza, vogliamo ciò che ci spetta, il lavoro per tutti. Il lavoro per chi ha sempre lavorato a Gela ed adesso è costretto ad andare a lavorare e a vivere lontano dalle proprie famiglie e a ritenersi fortunato quando lo trova. Ma veramente dobbiamo lasciarci morire così? Veramente non c'è nulla da fare? Non vogliamo lasciare questa città, è nostra. Sindaco, le auguriamo di passare uno splendido Natale, ma chiediamo che pari dignità sia conferita al nostro Natale. Non è un panettone e uno spumante che fanno la festa, ma la gioia di stare uniti, vicini, accanto ai propri cari. Lei è il primo cittadino. Non alle sembra, chiudono, che questa città sia stata calpestata a sufficienza? Non alle sembra, chiudono, che questa città sia stata calpestata a sufficienza.